Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video anche in italiano perché ci sono tanti amici, sponsor, tanti in Italia e altri che capiscono l'italiano. Volevo raccontare più o meno la mia esperienza di questa domenica perché nel sabato non ho avuto niente perché è piovuto. Questa è stata la mia prima gara di endurance, sono 100.000 che sono abbastanza. Volevo ringraziare tanta gente, Pedro Kamikaze perché l'ha fatto lui la differenza perché se no io e Renan non ce la facciamo. Renan ha pochi anni d'età, sei fortissimo, però solo in due non ce la facciamo noi. Volevo ringraziare i ragazzini della R3 Cup che mi hanno dato tanti consigli, mi hanno preso in giro, tanti scherzi, però quando siamo scesi in pista, gas forte perché sono bambini, quindi sono giovanissimi, scusa, però è stata molto molto divertente, un'esperienza bellissima con sorpassi, frenata e tutta quella roba là. E poi sono andato ad un piloto, sono andato a ringraziarlo e lui semplicemente mi ha regalato il suo trofeo, sai? E mi ha detto che lo merito io più che le altre, più che qualcun altro che era là. Io come non sono scemo l'ho preso ovviamente, è stata un'esperienza bellissima, volevo ringraziare l'Uvisotto Academy, il R3 e tutti gli altri piloti, i miei meccanici, a Tecmo 8, a Opinistar perché se no non fosse l'Opinistar ovviamente non stavo correndo, facevo la pistata, il track, bastava così per me, però mi hanno incentivato e volevo ringraziare. Grazie Sabrina del marketing. Grazie mille a tutti, grazie dei messaggi, della preghiera, dei regali, dei tifosi, di tutti quanti. Grazie mille, ciao!